Primo esodo estivo tra maltempo e bollino nero, bilancio in chiaro scuro per i concessionari di spiaggia, viaggio a Civitanova Marche, ultimi preparativi per il Ferragosto. Coppia picchiata e rapinata in casa, paura a Fano per due anziani coniugi, in azione una banda di esperti malviventi, una notte da Arancia Meccanica in zona Sant'Orso. Ascoli celebra l'oliva fritta e si prepara alla Quintana, domenica il corteo e poi la giostra in diretta su Vera TV a partire dalle 15.30. Ancona, il difensore Cella suona la carica, siamo forti, ho trovato un bel gruppo, basket VL chiuso il mercato stranieri, scende il prezzo abbonamenti del 10%. E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TG Mar che è in apertura, parliamo dell'attesa ondata di maltempo che è arrivata ma è stata forse più rapida del previsto. Ha previsto 20 per ora gli interventi dei vigili del fuoco, quelli più gravi segnalati su tutto il territorio regionale in un giorno che è da bollino nero sulle strade. Sentiamo Stefania Serino. L'estate si prende una pausa. Marche investite dal maltempo che, come da previsioni, ha portato pioggia in diverse zone della regione. I vigili del fuoco si sono attivati nel pomeriggio per diversi interventi causati dalla perturbazione che sta attraversando il territorio marchigiano. Una ventina in tutto, gli interventi effettuati, la metà dei quali nella sola provincia di Ancona, soprattutto per alberi caduti sulla sede stradale e allagamenti all'interno delle abitazioni. Restando nel capoluogo d'Orico, al porto di Ancona, la visibilità è stata temporaneamente compromessa proprio a causa delle piogge. Diversi comuni, inoltre, nelle Marche hanno attivato il monitoraggio delle zone sensibili come corsi d'acqua e sottopassi perché altre piogge sono previste nella tarda serata, attesa anche la grandine. Fino alla mezzanotte resta valida l'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione. Prevista anche un'allerta gialla nelle aree costiere e collinari per rischio idraulico. Massima prudenza, inoltre, per chi si mette in viaggio in questo primo weekend da Bollino Nero, ovvero con un flusso di traffico straordinario. Fino alle 22 persiste il blocco del traffico pesante, previsto anche per sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Stesso stop si ripeterà nel prossimo fine settimana e per la giornata di ferragosto, sempre dalle 7 alle 22. Per agevolare il transito dei vacanzieri, Autostrade ha sospeso i cantieri lungo la 14 fino al prossimo 11 settembre. La Polizia stradale raccomanda estrema attenzione a chi si mette in viaggio. Una navetta gratuita che collega le frazioni al mare è la nuova sperimentazione del Comune di Ancona. Ce ne parla Teodora Stefanelli. Caos, parcheggi a Porto Novo e sulle spiagge del Conero. Si cerca di porre rimedio con i maxi parcheggi e soprattutto con gli autobus e le navette. Debutta infatti il nuovo servizio di collegamento gratuito per le località della Baia. L'iniziativa a carattere sperimentale è proposta dalla Regione Marche e dal Comune di Ancona e si avvierà in due fasi. Attivo il collegamento urbano linea dei borghi con partenza dal parcheggio dello Stadio del Conero, confermati in via del Castellano fino all'incrocio della Provinciale del Conero e arrivo alla piazzetta di Porto Novo. Dal lunedì 7 agosto il servizio sarà integrato con le tappe extraurbane che raggiungeranno Sirolo, Numana e Marcelli. La prima corsa parte alle 8.05 dallo Stadio del Conero con arrivo a Porto Novo alle 8.20, mentre l'ultima corsa della giornata parte dalla piazzetta di Porto Novo alle 20 e arriva allo Stadio del Conero alle 20.25. Inizia una nuova avventura molto importante perché finalmente aiutiamo Porto Novo ad avere meno caos con il traffico perché saremo al servizio dei nostri cittadini per aiutarli a raggiungere in serenità le nostre spiagge. Meno caos è l'obiettivo che ci prefiggiamo tutti, quindi vogliamo andare al mare in serenità, tranquillità senza avere il pensiero di dove mettere la macchina. Quella delle navette è ormai un mezzo di trasporto consolidato dagli anconetani che preferiscono lasciare la propria auto a casa o al parcheggio scambiatore per non rischiare di rimanere imbottigliati nelle lunghe file direzione mare. Prende la navetta da quanto tempo e come conosce questo servizio? Io conosco questo servizio da sempre, da quando è stato istituito la prendo da sempre, è una navetta gratuita, la trovo molto comoda, il parcheggio secondo me è comodo, è utile, il prezzo è ragionevole e onestamente lo utilizzo da quando era gratuito una volta e ho continuato ad utilizzarlo. Questo uso della navetta e soprattutto del parcheggio scambiatore, questo anno particolare, piace agli anconetani? Sì, piace agli anconetani perché il costo non è alto, il servizio è veloce perché la navetta c'è ogni 10 minuti circa, anche prima, per cui dura fino a mezzanotte, per cui uno può anche stare di sotto a fare un aperitivo, a lunga, a fare una passeggiata, una cena. Niente, rimane molto comodo per le persone. Ci sono stati dei disagi durante l'estate, visto che il tema delle navette è sempre caldo qui ad Ancona? No, la navetta in se stessa non mette detigio, più che altro può essere il parcheggio, perché a volte purtroppo ci sono dei problemi anche magari con il pagamento, oppure il parcheggio si riempie e quindi vengono le persone, quel posto l'ho preso prima io, insomma ci sono questi detigi classici. E a poco più di 10 giorni dal Ferragosto, gli operatori balneari tracciano un primo bilancio di una stagione tra luci ed ombre. Sentiamo Donatella Lapp. Giornata di mare a Civitanova in attesa delle precipitazioni per l'annunciata perturbazione in arrivo e ad 11 giorni dal momento clou di questa stagione estiva, il Ferragosto, è tempo di primi bilanci per i balneari su quest'estate 2023. Quali sono le aspettative per il Ferragosto che è il momento clou della stagione? Ma penso bene, tanto al Ferragosto non rinuncia nessuno, io penso che proprio la gente abbia avuto voglia di risparmiare qualcosina prima, uscendo da due anni di Covid, avendo avuto un attimo la possibilità di spendere qualche soldo in più, ma a Ferragosto non rinuncerà nessuno, secondo me ci sarà comunque gente. Ma il caro Vita fa inevitabilmente spendere meno e non saranno i giorni intorno al 15 agosto poter risollevare la stagione. Forse a Ferragosto si lavorerà bene, ma una stagione non si può ridurre in 5 giorni di lavoro. Il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, si dice soddisfatto delle presenze in città. Civitanova sta andando bene anche dai dati che emergono dai BNB, ci confermano che abbiamo le strutture piene e che comunque sia quest'anno abbiamo anche un notevole incremento di coloro che praticamente scelgono di stare a Civitanova non solo nel weekend, ma anche con prenotazione più lunga, una settimana a 10 giorni, per le vacanze. Abbiamo un buon riscontro di persone che vengono da fuori regione. Dall'estero forse sono mancati un pochettino i locali, nel senso che anche dopo essere tornati fuori al brutto periodo del Covid, dove la gente non è partita, quest'anno molti cittadini, anche i civitanovesi, hanno scelto di fare le vacanze fuori. Quindi durante la settimana forse vediamo una presenza minore rispetto all'anno passato, ma senza altro la città sta rispondendo molto bene, con tante presenze, soprattutto nel giornaliero, nelle serate. Tanti gli appuntamenti ancora in cartellone in attesa del Ferragosto e della festa del Patrono. Da qui a 14 avremo altri eventi, quindi avremo sabato il concerto di Albano, avremo il 9 e il 10 un altro festival legato alla musica degli anni 90, fino ad arrivare poi ai festeggiamenti del Ferragosto, che inizieranno con l'alba musicale, fino ad arrivare alla mezzanotte con i consueti fuochi di Ferragosto fatti al mare. Poi i giorni successivi inizieranno i festeggiamenti di San Marone il 18 di agosto, fino ad arrivare al 20 giornata di Vita Vita, che in qualche modo rappresenta uno dei festival più longevi della città, quest'anno nel suo ventennale, quindi un appuntamento importante. Un incendio ha colpito alle prime luci dell'alba intorno alle 5 un appartamento a Trudica di Morrovalle, mettendo a rischio la sicurezza degli occupanti. Fortunatamente, grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, la situazione è stata prontamente gestita. Nel momento in cui gli stessi pompieri si sono recati in loco per spegnere le fiamme che si stavano propagando all'interno dell'edificio, è stata anche allertata una squadra dei vigili del fuoco di Civitanova che ha ravvisato all'interno di una delle abitazioni anche un cane che si trovava proprio all'interno dell'appartamento in cui si era sviluppato il rogo. Il cagnolino è stato prontamente tratto in salvo dai vigili del fuoco. Coppia di anziani picchiata e rapinata in casa. Il proprietario ferito, la moglie, sotto shock. Tutto è accaduto a Fano. Per dare l'allarme, lui si è calato con un lenzuolo dalla finestra, ma è caduto procurandosi delle lesioni. Notte da incubo, quella tra il 2 e il 3 agosto, per una coppia di anziani rapinati e aggrediti in casa propria, una villetta della zona Sant'Orso a Fano. Una banda di rapinatori ha fatto irruzione nell'abitazione e ha aggredito i proprietari, chiudendoli poi a chiave in una stanza. Il comando era composto da tre persone. Dopo aver fatto irruzione nella villetta, hanno minacciato e colpito fisicamente la coppia, 75 anni lui e 71 lei, intimandoli a farsi consegnare gioielli e contanti. Le due vittime hanno cercato di spiegare che non c'era nulla di valore in casa, ma i rapinatori hanno devastato tutto pur di trovare qualcosa da rubare. Ad un certo punto lui ha reagito e i banditi lo hanno colpito all'addome con il manico di un coltello, lasciandolo dolorante a terra. Scene da incubo che sono durate circa mezz'ora, finché i rapinatori si sono dati alla fuga con un anello di brillanti e qualche altro monile. Il proprietario di casa, seppur ferito, ha cercato di dare l'allarme calandosi con il lenzuolo dalla finestra, ma è caduto all'altezza di qualche metro procurandosi diverse fratture. La moglie non ha riportato lesioni, ma è rimasta sotto shock. Sulla rapina indagano i carabinieri. Organizza una rapina ai danni dell'ex marito, ma finisce in manette insieme a due complici. Organizza una rapina ai danni dell'ex marito, ma finisce in manette insieme al fratello e un altro complice. Un colpo ben orchestrato, con due finti finanzieri che con la scusa di un controllo riescono a entrare in casa dell'imprenditore per poi mettere a segno la rapina. Tutto è accaduto la sera del 27 aprile scorso, quando la Scolano, rientrato nella sua abitazione, aveva trovato due individui che si erano presentati come appartenenti alla Guardia di Finanza. Indossando divise con pettorina e cappello con simboli istituzionali, avevano fatto finta di dover procedere a un'ispezione fiscale. Si erano così introdotti nella casa dell'uomo, costringendolo a consegnare oltre 10.000 euro in contanti e un orologio Rolex. Successivamente avevano immobilizzato la vittima, legandogli mani e piedi e coprendogli la bocca con nastro adesivo per evitare che potesse chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Prima di andare via lo avevano minacciato di fare del male ai suoi familiari se avesse denunciato l'accaduto. I malviventi erano riusciti a fuggire dopo il colpo. L'imprenditore, però non appena liberato, si aveva chiamato i carabinieri della Compagnia di Ascoli, quali, insieme alla Procura, avevano avviato le indagini. A distanza di tre mesi dall'accaduto sono state individuate le tre persone ritenute responsabili della rapina grazie a perquisizioni locali, personali e informatiche compiute dal nucleo operativo radiomobile. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della moglie, separata di fatto dell'imprenditore e del fratello di lei, ritenuti gli organizzatori del colpo e di una terza persona identificata come esecutore materiale, oltre a un quarto soggetto dipendente della ditta dell'imprenditore. Resterebbe da identificare il secondo finto finanziere e proprio perché le indagini vanno avanti e c'è il rischio di inquinamento delle prove, la procura chiesta e ottenuto dal GIP la misura cautelare del carcere per i tre principali indagati. Durante una delle perquisizioni, condotta in provincia di Taranto, nei confronti di uno degli esecutori materiali, cioè uno dei finti finanzieri, è stato rinvenuto anche un quantitativo di cocaina e due pistole illegalmente detenute. Ciò ha portato all'arresto in flagranza del soggetto per possesso di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi. Le indagini continuano con l'auspicio di una completa ricostruzione dei fatti. I tre principali arrestati sono stati associati a diverse case circondariali, in attesa degli interrogatori di garanzia durante i quali avranno la possibilità di fornire la loro versione dei fatti. Protesta questa mattina a Pesaro, nel quartiere di Muraglia. I residenti contestano l'installazione di un impianto di telefoni alto più di 25 metri. No all'antenna è il messaggio a chiare lettere riportato nei manifesti dei residenti della zona di Muraglia a Pesaro tra via Forlanini e via Beccaria dove è stato installato un impianto di telefonia alto più di 25 metri in mezzo alle case e a pochi passi da un asilo. Gli abitanti, che oltre ai rischi di salute lamentano anche una svalutazione degli immobili del 40%, nella loro mobilitazione hanno già raccolto le firme e stanno valutando un ricorso straordinario al capo dello Stato. Diversi i motivi del dissenso. Contro questa installazione selvaggia sulla base di una normativa nazionale appunto scelerata che consente alle società appunto di telefonia di installare qualsiasi appunto sito in questo caso è un sito privato della società appunto Telecom delle impianti telefonici. Abbiamo, speravamo, insomma, viste le rassicurazioni iniziali che questa appunto antenna non venisse mai messa in funzione. La cosa che ci rammarica è che da una parte siamo contenti che siamo riusciti ad avere un dialogo. Siamo riusciti a portare la problematica all'attenzione del Consiglio Comunale attraverso un'interrogazione fatta appunto dalla Lega e successivamente abbiamo anche avuto appunto riscontro anche dall'assessore all'ambiente e da ultimo anche dal capo di gabinetto i quali ci hanno assicurato che avrebbero appunto provveduto e vigilato. L'unica cosa che vorremmo sostanzialmente capire è esattamente il giorno in cui verrà attivata questa antenna e il giorno in cui verrà disattivata. Sulla base del programma che era stato del progetto chiedo scusa che era stato presentato dalla società InWit e che poi era stato fornito il parere appunto dell'Arquam si parla soltanto di campo elettromagnetico parere appunto dell'Arquam che presenta numerose inesattezze. L'altra cosa spiacevole è che effettivamente l'installazione non sappiamo se c'è verrà posto appunto rimedio o no o c'è stato effettivamente un errore di installazione su questo ci potrà rispondere soltanto effettivamente la società che ha provveduto ad effettuare l'installazione e questo rumore appunto acustico che è diventato veramente un problema molto serio e di cui non si fa riferimento vi assicuro né nel progetto né tantomeno l'Arquam l'ha preso in considerazione perché l'Arquam è tenuta a dare una valutazione sul campo elettromagnetico non siamo dei bacchettoni non siamo dei fanatici non è che effettivamente protestiamo facciamo delle delle proteste senza senso il punto è che qui abitano molte persone anziane che trascorrono maggior parte del tempo appunto dentro casa c'è un asilo dove ci sono dei bambini che trascorrono gran parte della giornata dentro appunto la struttura io stessa sono malata oncologica vi assicuro che dopo aver passato 3-4 ore in oncologia tornare a casa e non avere appunto neanche il riposo e la pace della propria poter godere del riposo e della pace della propria abitazione vi assicuro che è una cosa effettivamente terrificante Ascoli celebra l'oliva dopo è tutto pronto per la decima edizione è arrivata ormai alla decima edizione confermandosi come una tra le principali attrazioni dell'estate epicena si tratta di Ascoliva il festival mondiale dell'oliva ascolana del Piceno DOP che nei nove anni precedenti ha totalizzato complessivamente mezzo milione di visitatori la Kermessa andrà in scena a Piazza Ringo ad Ascoli appunto dal 10 al 21 agosto è diventato un evento importante e noi attraverso la valorizzazione dell'oliva stiamo lavorando anche su un progetto di marketing territoriale perché l'oliva ascolana non è solo il prodotto tipico del territorio ascolano ma è porta in sé in nome di Ascoli quindi stiamo lavorando molto sul branding anche della città legata all'oliva ascolana quindi questo festival che ogni anno si rigenera e porta innovazione 10 anni dunque nel corso dei quali la Kermesse neogastronomica è cresciuta tantissimo ha richiamato persone da tutto il mondo grazie agli organizzatori ma anche a chi ci ha creduto dal comune di Ascoli alla giunta regionale Acquaroli fino al Bintronto interveniamo con tutta la i dieci giorni con un tavolo del PSR quindi dove in sostanza raccontiamo quello che la regione Marche sta facendo a favore dell'agricoltura e degli agricoltori quindi l'oliva sappiamo che è un brand ormai diffuso e conosciuto in tutto il mondo questa manifestazione ha la particolarità perché parla delle oliva DOP quindi di un'oliva che è disciplinata c'è quindi una normativa dietro che ne assolutamente tutela e conserva e salta la qualità da sempre siamo impegnati nel sostenere le nostre eccellenze gastronomiche mettendo in sinergia il territorio e l'abbiamo fatto tramite Made in Piceno che è questa piattaforma che è nata durante il periodo del covid per promuovere le eccellenze gastronomiche e artigianali del territorio tra cui il fiore all'occhiello e proprio l'oliva tenera DOP e Ascolana quindi siamo orgogliosi e quindi mi complimento con gli organizzatori che naturalmente hanno portato la decima edizione questa importante manifestazione che sicuramente dà lustro al prodotto ma all'intero territorio provinciale l'obiettivo così come ribadisce il presidente dell'associazione Ascoliva Massimo Di Ferdinando è dunque quello di promuovere l'oliva tenera Ascolana ma anche il territorio dicevo prima in conferenza 450.000 persone che sono venute nelle nove edizioni precedenti sono veramente numeri alti e anche quest'anno pensiamo di raggiungere grossi numeri perché già con un semplice post sul social abbiamo raggiunto cifre veramente a tre zeri e noi ci auguriamo insomma che vada tutto al meglio per poi darci la forza per andare avanti già in prospettiva futura l'edizione l'edizione di Ascoliva manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti con l'oliva ascolana del Piceno DOP protagonista insieme ad altri 12 piatti della tradizione locale predisposti da sei produttori del territorio Agorà Fattoria Case Rosse la Bottega di Bruno il Lorenz Caffè lo Scarrozzino e la Macelleria Clerici e ogni giorno incontri dibattiti e eventi anche grazie all'allestimento del Pala Oliva sempre a Piazzarri Una sfilata di campioni sportivi anconetani da Tamberi a Marini all'idea dell'amministrazione comunale per inaugurare il nuovo anno Dorico sfruttando il rinnovato stadio in centro città si pensa anche a una mostra fotografica per imprimere ricordi indelebili nella memoria della città vediamo Una festa per il Dorico 2.0 e per celebrare i campioni della città è il progetto pensato in via di sviluppo dell'assessore agli impianti sportivi Daniele Berardinelli il defile di campioni sarà l'occasione per invitare i cittadini a visitare il nuovo stadio di Viale della Vittoria tra gli invitati d'eccellenza il neocampione del mondo di scherma Tommaso Marini ma anche Gianmarco Tamberi Simone Barontini e poi chiaramente i Dorici dell'Ancona Calcio lei Giannini per la ginnastica con Lorenzo Casali e Tommaso Brugnami la vela con Alberto e Claudia Rossi e con Filippo Pacinotti e il windsurf con Giorgia Speciale questi sono solo alcuni dei nomi citati dall'assessore è un momento d'oro per lo sport regionale ma soprattutto per lo sport anconetano allora c'è venuta idea di lasciare un segno per il futuro e stiamo ipotizzando adesso dobbiamo metterlo a punto la cosa di utilizzare gli spazi del portale del Dorico che saranno ristrutturati sono già stati ristrutturati saranno aperti al pubblico a breve per poter fare una sala dove poter ospitare le fotografie e i ricordi dei campioni dello sport anconetano in modo che anche fra vent'anni ci possa essere un ricordo della vittoria in questo caso di Tommaso Marini piuttosto che di Tamberi la medaglia d'oro nel salto in alto per cui questo secondo me è un impegno che dobbiamo prendere per le generazioni future per lasciare un ricordo di quello che sta succedendo in questi anni magici per lo sport anconetano stiamo sicuramente ragionando di coinvolgere questi nostri compioni in altri eventi della città proprio per non solo promuovere lo sport ma anche coccolarci un po' Ancona è una grande città che ha una grande identità ha grande gente gente di passione gente che fa anche sport a risultati importantissimi se tutto procede per il meglio ad ottobre si potrebbe già inaugurare l'impianto sportivo tanto caro alla città la tribuna sarà dotata di tutti i servizi compresi ovviamente quelli per i disabili con l'ingresso degli atleti che rimarrà quello in via Damiano Chiesa e la prima parte della nostra pagina informativa si ferma qui fra pochissimo ci ritroveremo con lo sport Grazie a tutti i nostri spettatori